Tragedi in mare a Ponte Sasso di Fano accusa un malore se accasci in acqua, morta una donna di 69 anni. Tentano di rubare la marmitta catalitica di un'auto parcheggiata a Giumarra di Fano, coppia arrestata dalla polizia nei guai e anche quattro persone che alloggiavano abusivamente all'ex convitto Vittoria Colonna. Stangate da incubo in bolletta con aumenti del 350%, l'intervista al titolare di un'azienda pesarese che cerca di correre ai ripari con i pannelli fotovoltaici. Guerra, pandemia e programma elettorale. Matteo Salvini è tornato a Fano. In vista delle elezioni la Lega si batte per evitare l'aumento delle bollette di luce e gas ed è pronta a licenziare Speranza per sostituirlo con un medico. Piale Battisti a Fano cambia rivolto con nuovi marciapiedi, ciclabili, parcheggi e pavimentazione. I lavori prenderanno il via il prossimo anno. Dal 10 al 12 settembre torna Pesaro la fiera di San Nicola attesi sul lungomare 550 espositori per un pieno di acquissi nel segno della tradizione. Lunedì 5 settembre buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo con la tragedia che si è consumata ieri pomeriggio alle 17.30 e bagnazzurra di Ponte Sasso a Fano dove una donna di 69 anni è stata accolta da un malore mentre camminava in acqua. Nonostante tutti i tentativi di rianimarla da parte del bagnino Roberto Boni e uno dei soci dello stabilimento Oriano Sabatini per la signora non c'è stato nulla da fare. E potrebbe essere stato colto da un malore anche Emanuele Vecchi, 53 anni, residente a Monterado in provincia di Ancona. L'uomo è stato trovato morto nella notte tra sabato e domenica lungo la 14 a 3 chilometri dal casello di Fano. A lanciare l'allarme è stato un'automobilista che ha notato l'auto del 54enne, una Y10, ferma a ridosso del New Jersey centrale. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma sono risultati vani i tentativi di rianimarlo e il medico ne ha constatato il decesso. Le indagini sono affidate alla polizia autostradale. Invece a Senigallia oggi pomeriggio c'è stato un violento frontale tra due auto lungo la strada provinciale Arceviese. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 giunto anche con l'eliambulanza per soccorrere le persone alla guida delle vetture. La dinamica in questo caso è al vaglio dei carabinieri. Passiamo alla bolletta da capogiro. Arrivata alla BMG di Pesaro, una bolletta pensate che ha subito un aumento del 350%. Il rialzo dei prezzi è continuo e la situazione ormai fuori controllo. Sta mettendo in ginocchio migliaia di imprese in tutta Italia. Anche nella provincia di Pesaro Urbino gli imprenditori sono alle prese con le bollette, addirittura più che triplicate. È il caso di Giacomo Dini, uno dei titolari della BMG con sede a Pesaro. L'azienda, specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione, ad oggi conta 16 dipendenti. Giacomo, quanto pagava prima e di quant'è l'ultima bolletta? Dunque, allora, ce l'ho qui a portata di mano, presa apposta, quindi da 3.740 siamo passati a 15.368. È più o meno stesso numero di kilowatt. È un aumento calcolato del 350%. Se lo aspettava? No, no, perché faccio parte di un consorzio che fino a due anni fa andava tutto bene, si risparmiava anche qualche cosa e adesso praticamente anche il consorzio non ha funzionato più. Che cosa pensa di fare? Ci sono delle soluzioni da mettere in campo? Soluzioni non ci sono per l'immediato. Si stava pensando di fare il fotovoltaico eventualmente per prodursi autonomamente l'energia. avrà un costo, ma stiamo valutando questa posizione qua adesso. Sono necessari comunque degli incentivi da parte del governo? Certo, certo. Come ha fatto il 110% per le famiglie, per le case, secondo me sarebbe una cosa da fare incentivare gli impianti fotovoltaici in modo che anche la parte non consumata dalla ditta stessa possa essere venduta e avere un ricavo. I dipendenti, ha proseguito l'imprenditore, non rischiano il posto di lavoro. L'azienda però ha fatto di recente degli investimenti importanti sui cappannuni e sui macchinari e ora, ha detto Dini, dovremmo rimboccarci le maniche. Che cosa si è domandato in queste settimane? Di chi è la colpa? Ma la colpa, adesso tutti parlano della guerra, però era già incominciato tutto prima della guerra, quindi secondo me buttarlo tutto sulla guerra di Putin non è proprio giusta, perché secondo me c'erano già delle speculazioni partite già da prima. e noi avremmo bisogno di certezze, perché l'instabilità così è la cosa più brutta che ci sia, perché noi ci fermano tutto, perché se non sai un domani o perlomeno, se c'è una piccola percentuale di un aumento di qualche cosa è un conto, ma avere degli aumenti del 350% sono sempre stati impensabili fino a quando non sono successi. Il caro Bollette è stato uno dei temi al centro dell'incontro, in piazza Fano con Matteo Salvini. Il leader della Lega è tornato in città in vista delle prossime elezioni, al suo fianco c'era anche Mirko Carlone. Per me le Marche sono un modello di buona amministrazione, per la Lega a livello nazionale abbiamo scelto di puntare sui marchigiani che governano comuni, territori e regione per portare più Marche in Parlamento, penso che avremo un risultato straordinario. Certo l'emergenza nelle Marche come in tutta Italia sono le tasse, le bollette di luce e gas. Agire in fretta con interventi urgenti a livello italiano ed europeo per bloccare gli aumenti, lo ha ribadito il leader della Lega Matteo Salvini, tornato a Fano, in vista delle elezioni del 25 settembre. Aggiungo la riflessione sull'Adriatico, ci sono i croati che estraggono gas e noi che lo paghiamo caro. Quindi chi sceglie la Lega sceglie lo sviluppo, l'energia. Ovviamente le comunità locali dovranno essere interpellate, ma ovunque al mondo si sta investendo sul nucleare. In Francia stanno costruendo sei nuovi reattori. Non possiamo rimanere gli ultimi con le tasche vuote. Salvini, che concorda sulla necessità di fissare un tetto al prezzo del gas, crede che siano essenziali decine di miliardi per tutelare un milione di posti di lavoro e l'economia del paese. Sullo scostamento di bilancio occorrono miliardi adesso, subito. Preferisco spendere 30 miliardi adesso per salvare migliaia di aziende che non spenderne 100 a Natale per pagare la disoccupazione, la cassa integrazione a migliaia di operai. Quindi non è un problema politico la bolletta della luce del gas. Se non si interviene adesso, entro i primi giorni di settembre, sarà tardi e sarà inutile. C'è voglia di stabilità, di sicurezza e di cambiamento, ha proseguito Salvini, fiducioso sui risultati delle elezioni e sul voto dei ragazzi. Per me centrale è il lavoro. Mandare in pensione la Fornero e la sua legge significa aprire centinaia di migliaia di posti di lavoro per i giovani e ai giovani offro più libertà di studio. Faccio un esempio molto concreto. Settimana prossima ci sono decine di migliaia di ragazzi in tutta Italia che fanno il test per accedere a medicina. Quattro su cinque di questi ragazzi non ce la faranno e dovranno perdere un anno. Noi proponiamo il libero accesso al primo anno della facoltà di medicina per tutti, come in Francia, e la selezione si fa in base ai voti del primo anno, non in base alle crocette e al quiz. E quindi anch'io conto che tanti diciottenni al loro primo voto sceglieranno la Lega. Altro tema toccato è stato quello della pandemia. Il tempo degli obblighi, dei green pass, degli allontanamenti da scuola, dall'ospedale e dal lavoro sia un ricordo, ahimè, dei mesi passati e quindi che si possa guardare con fiducia al futuro. Poi se Speranza piuttosto che Crisanti fanno campagna elettorale sui morti, a me mettono tristezza. Sarò orgoglioso di pensionare Speranza e farò di tutto perché il prossimo Ministro della Salute sia un medico, sia un medico che conosce il tema di cui si occupa. Mi domando ad esempio adesso l'obbligo della mascherina in treno quale senso scientifico abbia solo in Italia. Ci sono stati alcuni eccessi che per quello che mi riguarda non dovranno essere ripetuti. Per quanto riguarda invece la stretta sui visti dei cittadini russi? Ma mi sembra una follia. Un conto è punire Putin, il governo, i ministri, gli oligarchi, i generali. Non possiamo punire centinaia di milioni di persone. Fermiamo la guerra, blocchiamo chi ha scatenato la guerra. Le sanzioni stanno alimentando la guerra. L'avanzo commerciale russo dei primi sette mesi di quest'anno è di più 120 miliardi di dollari. Di solito se io ti sanziono tu soffri e ci smeni. Invece è la prima volta in cui il sanzionato ci guadagna e quello che fa le sanzioni ci smena. Vuol dire che qualcuno ha sbagliato i calcoli. Ma questo non lo dico perché mi fanno simpatia coloro che hanno invaso l'Ucraina. No, mi fanno orrore. Però se li devo punire, devo punire loro, non gli italiani. In questo momento stiamo autoponendo gli italiani. Insieme a Salvini, tra le bancarelle del mercato, erano presenti anche Mirko Carloni, candidato al collegio uninominale alla Camera, Mauro Lucentini, capolista nel collegio plurinominale al Senato e i componenti del partito fanese. La Lega è molto legata al territorio e soprattutto crede negli amministratori locali, nella conoscenza, nel rapporto diretto con la comunità e il territorio. Il fatto che Matteo Salvini torni a Fano così frequentemente, conosce bene la città, conosce i problemi di questa città, gli imprenditori che ha incontrato più volte, è la dimostrazione di un interesse vero, non di facciata che avviene durante la campagna elettorale, ma Salvini, come tutta la Lega, è davvero legata alla nostra città e alla nostra provincia. Ancora cronaca, gli agenti del commissariato di Fano, diretti da Stefano Seretti, hanno sorpreso e bloccato due persone intente a rubare la marmitta catalitica di un'auto nella zona mare di Gimarra. Infatti i poliziotti avevano notato la presenza di una vettura con il motore acceso e bagagliaio aperto, ferma in prossimità di un'auto parcheggiata. Inoltre c'era un uomo steso a terra sotto quest'ultima e una donna nel classico atteggiamento del palo. Alla vista degli agenti sono saliti velocemente sul mezzo lasciato acceso e si sono dati alla fuga. Il veicolo, inseguito dalla pattuglia del commissariato e da altri equipaggi in supporto, è stato bloccato all'altezza di Fosso Seiore e gli occupanti, due giovani stranieri con a seguito la figlia di tre anni, sono stati identificati. All'interno dell'abitacolo sono stati rinvenuti gli attrezzi solitamente utilizzati per lo scasso. Invece nell'autopresa di mira dai due la marmitta era stata sbullonata e tagliata nell'intento di prendere i metalli contenuti come il platino, il palladio e il rodio molto occotati sul mercato nero. I due, già notti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per tentato furto aggravato ma la donna è stata rimessa in libertà in quanto madre con a seguito la figlia in tenera età. Nei confronti dell'uomo invece il giudice ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza nel nord d'Italia. E sempre la polizia di Fano ha eseguito dei controlli all'ex convitto Vittoria Colonna oggetto di segnalazioni da parte di cittadini per la presenza di intrusi soprattutto nelle ore notturne. I poliziotti, oltre ad aver riscontrato rifiuti e condizioni igienico-sanitarie molto precarie, hanno trovato all'interno, alloggiate con sistemi di fortuna in quegli ambienti pericolanti e fatiscenti, ben quattro persone, tre uomini e una ragazza minorenne. Una volta identificati, sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici. Inoltre, nei confronti di due uomini, sono state messe le misure di prevenzione dell'avviso orale e dell'allontanamento dal comune di Fano, mentre la minorenne è stata affidata ai familiari. L'attività, estesa anche al pincio di Fano, ha portato all'identificazione di 20 ragazzi. Uno di loro, che è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana per uso personale, è stato segnalato alla prefettura di Pesero Urbino. Nuovi marciapiedi, ciclabili, parcheggi e pavimentazione. Viale Cesare Battisti a Fano si rinnova grazie al progetto presentato questa mattina dall'amministrazione comunale. Il costo del progetto è di 950 mila euro e l'avvio dei lavori è previsto nel 2023. Filippo Pucci Un nuovo look per Viale Cesare Battisti di Fano. Addio a strade rovinate, incuria, ma soprattutto ciclisti e pedoni che invadono la carreggiata. È stata presentata questa mattina la nuova visione del tratto stradale che va dalla fine di Via Garibaldi fino all'intersezione con Via Dante Alighieri. Il progetto, redatto dallo studio 3T Progetti di Roma, prevede nuove soste auto gratuite e a disco orario a lato nord, la sostituzione e la piantumazione di nuove alberature e una nuova pavimentazione in Selciato ai lati della strada principale. Un occhio di riguardo è stato dato anche per la piccola area verde di Piazzale Rosselli con nuove sedute e una nuova pavimentazione. Assessore, una nuova immagine per Viale Battisti? Sì, questa settimana proveremo il progetto di fattibilità tecnico-economica. Su Viale Battisti sarà appunto creata questa suddivisione degli spazi per gli utenti. Oggi sappiamo che è molto frequentata da pedoni ciclisti e automobili in una maniera un po' anarchica, diciamo così, e quindi risulta anche molto pericolosa per gli utenti. Nel 2023, quando inizieremo il lavoro, finalmente avremo questa suddivisione degli spazi. Quindi, sia nel lato nord, avremo un marciapiede di un metro e mezzo almeno per poter avere una fruizione sicura per i pedoni, manterremo i parcheggi sul lato nord di Viale Battisti, mentre sul lato sud ci sarà una ciclabile a doppio senso di marcia e un largo marciapiede più aderente alle abitazioni. Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo piccolo ponte moderno a lato sud, dedicato esclusivamente alle biciclette, mentre quello esistente a lato nord, per i pedoni. All'interno di questo progetto non è previsto la progettazione definitiva e esecutiva perché verrà fatto in un secondo stralcio. Attualmente sono 950 mila euro il finanziamento preso per questo stralcio, mentre per questo ponte sulla ferrovia. Essendo un percorso autorizzativo molto più lungo e complicato, e anche delle risorse abbastanza importanti, circa 500 mila euro, prevediamo di realizzarlo in un secondo momento. Soddisfatto il sindaco Seri, finalmente daremo una nuova vita a uno dei tratti più utilizzati dai cittadini e dai turisti. Stiamo proseguendo su quello che è il nostro obiettivo, quello di rendere questa città sempre più bella e sempre più accogliente. Oggi presentiamo un nuovo progetto che verrà realizzato nel 2023. Con quest'opera veramente rendiamo ancora più bella che si legherà a quello che è il prossimo progetto che sta proseguendo, cioè la riqualificazione del Waterfront che andrà a completare tutta questa zona. Quindi un altro bel risultato, una città che cresce e che diventa sempre più bella. Nei giorni scorsi il capitano Crescenzo Maglione ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Urbino sostituendo il capitano Puglisi trasferito al comando della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria. Maglione, 29 anni di Napoli e nell'arma dal 2011, arriva da Bergamo dove negli ultimi due anni ha retto il comando del nucleo operativo e radiomobile. Ora è a capo della Compagnia di Urbino che comprende 13 comandi stazione e ha competenza su 21 comuni dell'area del Monte Feltro per un totale di circa 65 mila abitanti. Cambiamo argomento. L'assessore regionale Stefano Guzzi ha partecipato al Comitato Tecnico di Protezione Civile che si è riunito questa mattina per affrontare il tema dell'emergenza idrica. Esaminata la situazione attuale a seguito dell'apertura dei pozzi e dei recenti eventi meteorologici si è potuto verificare che al momento lo stato degli invasi era assicurante. Quindi si è stabilito di chiudere i pozzi di Sant'Anna del Furlo e del Burano in via sperimentale a partire da oggi e fino a venerdì quando il Comitato tornerà a riunirsi per verificarne gli effetti. Ed ora ci spostiamo a Pesaro perché dal 10 al 12 settembre torna la fiera di San Nicola con 550 espositori. Pochi giorni è uno degli appuntamenti più attesi dai pesaresi ed evento di richiamo per i visitatori di tutto il centro Italia. Dal 10 al 12 settembre torna tra conferme e novità la fiera di San Nicola un'occasione per fare un pieno di shopping buon cibo e divertimento. Finalmente la fiera di San Nicola che è una realtà costante nel tempo e rappresenta la storia torna senza limitazioni. Grande partecipazione perché 550 espositori saranno presenti dal 10 al 12 settembre quindi tre giorni di fiera molto importanti dedicati al commercio all'artigianato alla produzione locale accompagneranno i cittadini tutti coloro che verranno nella nostra città a vivere questo momento. Finalmente sono sparite le limitazioni delle distanze degli ingressi ritorneranno anche gli eventi dedicati ai più piccoli tutti i pomeriggi la domenica mattina e anche il pre-fiera in Piazza della Repubblica venerdì precedente quindi il giorno precedente e quindi un ritorno alla normalità con grande energia grande carica e anche grande gioia direi. Un ringraziamento particolare alla Polizia Municipale alle forze dell'ordine che ci accompagneranno come sempre perché la sicurezza è sempre il primo posto. Gli ambulanti verranno dislocati in Viale Trieste Viale Trento Piazzale D'Annunzio Viale Verdi Viale della Repubblica Viale Marconi Via Paterni con migliaia di prodotti di ogni genere per tutte le tasche 10 i produttori e venditori di alimenti tipici delle marche e delle altre regioni che profumeranno Piazzale della Libertà tanti anche gli stand della Via dei Sapori Via Sanzio dedicata all'eccellenza a chilometro zero e ai prodotti no gastronomici del territorio saranno 23 invece gli espositori di artigianato e curiosità posizionati in Viale Da Vinci tra le proposte anche le opere dell'ingegno degli artisti che presentano le loro creazioni in Viale Dante Alighieri mentre i punti di sosta e ristoro si alterneranno in Piazzale della Libertà d'Annunzio e nei giardini di Viale Zara a restituire al pubblico i valori che la fiera di San Nicola porta con sé e l'iceo artistico Mengaroni che ne ha realizzato un'immagine La novità di quest'anno è l'introduzione dell'area spettacolo per i bambini con il coordinamento di Piazzaro Village che allestirà un'area di intrattenimento sui giardini di Piazzale della Libertà tutti i pomeriggi 16.30 a 19.30 e anche domenica mattina La conferma dell'area del mercatino di bambini sempre nei giardini di Piazzale della Libertà che sicuramente meglio coniuga l'esigenza dei bambini quindi del gioco con la fiera di San Nicola anche come spazio e come tipologia e la possibilità di usufruire del parcheggio di Villa Marina che è un'area sosta da 160 posti attrezzata grazie al comune di Pesaro proprio ai margini della fiera che sicuramente aiuterà anche in termini di viabilità per la fiera Da quest'anno è possibile lasciare il veicolo anche nel posteggio Grande Torino nell'area del McDonald's in cui sono presenti 250 posti auto è un nuovo parcheggio scambiatore che sarà collegato alla fiera da una navetta gratuita attiva sabato e domenica dalle 18 alle 23 passerà ogni 30 minuti possibilità di sosta in questo caso a pagamento anche al Curvone aperto H24 e al Marsala aperto dalle 7.30 a Luna è confermata la navetta dal San Decenzio Abbiamo confermato il piano viabilità degli scorsi anni diciamo cercando sempre ogni volta di limarlo e migliorarlo sono già tre anni che ormai abbiamo dedicato il Viale Battisti ai residenti ai turisti e agli espositori vietando proprio la circolazione questo ha favorito un po' diciamo ha snellito la viabilità perché altrimenti si creava questa lunga colonna di mezzi che poi in realtà non trovavano parcheggio in zona e allo stesso tempo credo abbia tranquillizzato i residenti perché effettivamente hanno un lungo serbatoio di Viale Battisti tra via Mascagni e via Fiume è appunto riservato a solo determinate categorie di utenti il punto di riferimento diciamo ormai da cui partono anche i propri servizi delle forze dell'ordine è quello di via Zara Trieste dove c'è un gazebo che gestiamo come polizia locale che è appunto anche di informazioni ma soprattutto di riferimento per eventuali problematiche e anche bambini che si perdono o piccoli furti che potrebbero succedere insomma ci sono sempre dei nostri operatori in quella postazione più un servizio sia interno che esterno dedicato alla viabilità e come aveva annunciato l'assessore del comune di Mondolfo Filomena Tiritiello sono partiti i lavori di rifacimento del manto stradale in via Passo di Ragno via San Pasquale via Gagarin e via Svevo quelle che vedete sono le foto pubblicate sui social dal sindaco Nicola Barbieri e a proposito di strada un nostro telespettatore ci ha inviato queste fotografie per mostrare lo stato in cui versa via Turati a Bellocchi di Fano con buche grosse e pericolose si richiede un intervento anche per questo pozzetto situato in via Enaudi nella rotatoria all'altezza del CAF il pozzetto è più basso del livello stradale scritto il reporter e può accedere in qualsiasi momento è pericoloso in particolare per i motociclisti e gli scooteristi l'apertura della campagna venatoria purtroppo ha obbligato l'associazione i muli stracchi a trovare una nuova data per la quarta edizione della pedalata la perangelica l'iniziativa si svolgerà sabato 17 settembre con partenza dal centro storico di Seronguarina vi ricordo come sempre il numero dedicato alle vostre segnalazioni potete inviarci un messaggio o meglio con una fotografia su whatsapp al 338 49 68 250 vi ricordo anche l'appuntamento in diretta di domani mattina alle 7 con il direttore Marco Ferri mentre noi ci rivedremo domani sera alle 20.30 per una nuova edizione del nostro telegiornale arrivederci grazie